Un tunisino di 23 anni è stato arrestato per essere rientrato clandestinamente in Italia dopo essere stato espulso e per essersi sposato in modo irregolare con una donna padovana. Il giovane era già stato espulso nel 2023 dopo varie denunce tra Padova e Venezia per spaccio di droga. Rimpatriato in Tunisia, dopo un anno era riuscito a rientrare irregolarmente in Italia e pensava di rimettere tutto a posto sposando un'italiana, una donna della bassa padovana più anziana di lui di 17 anni. Un matrimonio celebrato a Pernumia dopo il quale il 23enne si è rappresentato in questura convinto di poter ottenere facilmente il permesso di soggiorno e invece scoperta l'irregolarità a partire dal reingresso in Italia nonostante il divieto i poliziotti lo hanno arrestato, arresto poi convalidato dal giudice che ha applicato anche il divieto di dimora in Veneto. Ora saranno effettuati accertamenti anche sul matrimonio.